Il giardino di Bob, guida all'uso dei rimedi naturali insieme all'erborista Roberto Trivisonno Questa è la novità numero uno della stagione, numero tre scusate, diamo i numeri di state comodi ancora buon lunedì e c'è grande curiosità attorno a questo giardino di Bob perché i nostri ascoltatori caro Bob vorrebbero entrare nel tuo giardino, si può? Buongiorno Bob Prego prego tutto aperto, tutto aperto così non hai paura degli estranei Ma un giardino non può essere chiuso Hai ragione, hai ragione, allora la guida un po' alla vita ma come la possiamo anche migliorare grazie ai rimedi naturali insieme all'erborista Roberto Trivisonno Sai Bob io sono molto meteoropatico con il clima di oggi da quando mi sono svegliato Hai qualcosa per migliorare il mio umore? Qualche rimedi natural? Ovviamente cosa vuol che ti dici se non fatti una tisana Beh giusto, calmati con una bella tisana Esatto Va bene, senti a parte gli scherzi entriamo nel merito ufficiale di questa rubrica perché dopo la presentazione della settimana scorsa vi diamo già il primo elemento il primo rimedio naturale e io so caro Bob che oggi tu vuoi parlarci di curcuma una cosa che perdona la mia ignoranza io ho sentito sempre solo in cucina Mi sbaglio? Assolutamente no Soprattutto se tu frequenti i ristoranti indiani Sicuramente l'hai trovata come spezia caratteristica Considera che la curcuma faccia un passo indietro nel senso che è una pianta molto comune in Asia soprattutto nella parte sud del continente in India per esempio è una pianta che arriva massimo ad essere un metro caratterizzata da un colore giallo-arancione dei fiori e anche la radice che è la parte più interessante sia commerciale che da un punto di vista didattico ha questo colore qua l'arancione ci ricorda qualcosa per esempio una mostarda oppure il curry è vero il curry vado ghiottissimo quindi capisci che quello che tu hai detto è assolutamente condivisibile però io so caro Bob che in realtà possiamo tranquillamente io e te uscire dalla cucina anche perché è presto al mattino a meno che qualcuno non si faccia una pasta o qualcosa condito con il curry a quest'ora ha delle proprietà anche estremamente salutari benefiche no? guarda studiando di più per voi anche mi sono imbattuto in una serie di studi molto interessanti la curcuma è una pianta molto interessante dal punto di vista fitoterapico e botanico allora è riconosciuto dal ministero della salute delle indicazioni chiare che sono nei problemi digestivi nei problemi epati il fegato che lavora un po' male perché magari mangiamo male è assolutamente un buon aiuto se magari o no ci può aiutare ma sullo stress ci serve quasi tutto perché lo stress chiaramente ha un ricaduto sul nostro organismo e il fegato generalmente è la prima cosa che risente dei nostri dell'essere metereopatico per esempio ecco perfetto ci siamo poi viene utilizzato e viene proposto come antiossidante e viene proposto anche in alcune situazioni per i disturbi del ciclo mestruale quello che è fondamentalmente importante da sottolineare è che ha un ruolo nelle infiammazioni cioè è fondamentalmente senza dargli un termine ovviamente troppo medicale è un antinfiammatorio proprio per un meccanismo di azione molto chiaro che diminuisce la reattività alle infiammazioni del nostro organismo insomma avete sentito quante proprietà la curcuma di questo stiamo parlando oggi all'interno del giardino di Bob però in chiusura un'altra cosa secondo me è importante tu prima e l'hai fatto in più di un'occasione Bob hai citato l'Asia il sud-est asiatico luoghi del mondo dove magari rispetto alla Europa alla comunità europea ai paesi del nostro continente fanno un utilizzo forse un po' più ampio della curcuma no mi sembra? assolutamente sì, la curcuma viene utilizzata nel resto del mondo in maniera anche magari più importante di quello che è utilizzata da noi esistono studi clinici che ne supportano l'utilizzo anche in ambito medicale perché può essere per esempio un ottimo adiuvante anche nelle terapie oncologiche per le sue azioni riportate riportate appunto in studi clinici universitari può essere utilizzata per esempio per alcuni problemi di pelle e può essere utilizzata anche come ripeto l'ho citato prima come